Piuttosto che farsi arrestare, ha preferito tentare il suicidio. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Lima l'ex presidente Alan Garcia, che si è sparato alla testa poco dopo l'arrivo della polizia nella sua abitazione. Accusato di presunti reati di corruzione, Garcia è stato presidente del Perù dall'85 al 90 e di nuovo dal 2006 al 2011. Gli investigatori si sono presentati a casa dell'ex capo di Stato con un mandato di detenzione provvisoria di 10 giorni emesso dal giudice nell'ambito della max inchiesta sul caso Odebrecht. Secondo l'accusa, la compagnia brasiliana di costruzioni avrebbe pagato 4 milioni di dollari a Luis Nava e al figlio José Antonio, stretti collaboratori di Garcia, per giudicarsi il bando per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Lima. Garcia si è sempre dichiarato estraneo alle accuse di tangenti lo scorso novembre, aveva anche chiesto senza successo asilo politico all'Uruguay. Grazie.